Marche Multiservizi, il nuovo presidente è Andrea Pierotti Cantieri, dalla palla alla piazza, Pesaro si prepara alla bella stagione Carenza Medici, Marche Nord, punta 39 assunzioni Spacciavano cocaina fra Fano e la Campania, 5 arresti Basket in lutto per la morte di Piero Scansi Benvenuti cari telespettatori e care telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione del Rossini News telegiornale di martedì 5 di aprile che apriamo parlando del nuovo presidente di Marche Multiservizi è stato infatti individuato il sostituto di Daniele Tagliolini scomparso prematuramente meno di un mese fa si tratta di Andrea Pierotti, ex sindaco di Acqualagna la scelta della nomina spetta al comune di Pesaro che ha deciso di continuare a investire sulle aree interne dopo Tagliolini il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha dunque nominato Pierotti che è già membro del CDA di Marche Multiservizi ed ha tutte le competenze per ricoprire il ruolo di presidente contestualmente entra in Marche Multiservizi anche Sara Mengucci che per 7 anni è stata assessore alla solidarietà del comune di Pesaro prenderà il posto di Katia Perugini Pesaro si prepara alla bella stagione dalla palla di pomodoro alla piazza del popolo stanno partendo i cantieri per preparare la città alla stagione turistica a piccoli passi la primavera comincia a farsi avanti e Pesaro si prepara a piccoli e grandi cantieri per allestire la città alla bella stagione lavori che di fatto sono già cominciati in uno dei luoghi da cartolina della città quello fra palla di pomodoro e moletto dove si sta provvedendo alla sostituzione delle balaustre ammalorate da salsedine e intemperie è un'operazione di restyling importante che interesserà le balaustre nella zona di Piazza della Libertà sono 350 metri, sono partiti i lavori proprio la scorsa settimana che prevedono la sostituzione di fatto con un trattamento a base di polimeri che le renderà nuove, le renderà meno soggette a eventi corrosivi essendo comunque quella una zona molto esposta alle interperie, alla salsedine quindi al rischio che possano verificarsi dei fenomeni di ruggine però andremo a fare un trattamento importante come non si era mai fatto prima che dovrebbe mettere nelle condizioni di avere un salotto nella zona mare che sia ancora più pulito e più ordinato lo stesso tipo di interventi verrà realizzato anche un intervento simile si realizzerà anche sui bidoni, sui cassonetti di marche multiservizi che verranno, su cui la società si è già attivata per una polizia, per un riordino un primo lavoro fra tanti altri che si stanno organizzando anche di concerto con l'Apa Hotels in un periodo di sopralluoghi fra comune e albergatori per gli accorgimenti da portare al lungomare in vista della Pasqua e di un'estate che conta di mettersi definitivamente la pandemia alle spalle grandi manovre ad esempio a Villa Marina dove si conta di completare e riqualificare i 4.000 metri quadrati di parcheggio gratuito entro il mese di giugno con 165 posti auto e area di sosta anche per bici e scooter ma a Ponente si preparano anche altre novità un intervento importante anche nella zona, nell'unico spazio verde rimasto di Viale Trieste in fondo nella zona diciamo tra Bagnetino e il Prima Porto nella quale grazie anche al contributo importante di Croce Rossa andremo a realizzare un'area da calistenics quindi una struttura sportiva all'area aperta in un luogo strategico della città, bellissimo e quindi quello è un primo stralcio di un intervento che poi come volontà dell'amministrazione c'è anche di riqualificare anche tutto quel passaggio pedonale l'area verde dietro, nella parte dietro insomma rispetto a quella nella quale interveniamo già subito fra qualche settimana Dal mare al centro sta per iniziare forse il cantiere più delicato quello del restyling del selciato e della pavimentazione di piazza del popolo dopo le prime indagini archeologiche ultimi giorni per l'assegnazione dei lavori alle ditte qualificate al restauro conservativo Sono già state effettuate le operazioni, il georadar così come condiviso insieme alla sovrintendenza abbiamo stato fatto l'avviso pubblico per l'assegnazione dei lavori e vedremo di cercare di andare a intervenire sulla piazza che è il luogo sicuramente simbolo più importante della città cercando di creare meno disagi possibili garantendo anche durante tutta la stagione estiva il naturale svolgimento degli eventi e delle manifestazioni quindi sarà un lavoro sicuramente delicato che andremo probabilmente a dividere in tre stralci questo proprio in modo tale da rendere far sì che la piazza resti sempre accessibile e fruibile considerando che ci sono attività che ci sono prefettura, questura quindi è un luogo importante su cui occorre intervenire con grande attenzione proprio per far sì che il cantiere duri meno possibile crea meno disagi possibili e possa dare quel lustro alla città così come sarà una piazza riqualificata e all'ospedale San Salvatore si è appena conclusa una settimana che ha visto il congedo dell'ex primario del pronto soccorso Umberto Gnudi e le contestuali dimissioni di altri cinque medici una grave carenza di personale sottolineata dal sit-in del Partito Democratico di Pesaro che venerdì ha enfatizzato come si è passati in due anni da 38 medici a 16 al pronto soccorso un dimezzamento sul quale l'azienda Marche Nord sta cercando di correre ai ripari istituendo bandi per la bellezza di 39 assunzioni di medici a tempo indeterminato E passiamo ora ad una notizia di cronaca avvenuta nella camera mortuaria di Pesaro dove nei giorni scorsi alcuni membri di una famiglia si sono incontrati per piangere la scomparsa di un'anziana signora Nell'occasione la giovane nipote non curante di quello che stava facendo ha prima scattato una foto alla salma della nonna morta che giaceva nella bara e poi ha deciso di condividerla sul suo profilo Facebook Il post è diventato visibile ai suoi follower compresi alcuni familiari che in quel momento non erano presenti nella camera mortuaria una scelta che ha irritato i parenti della giovane i quali si sono precipitati sul luogo ed è proprio dentro la camera mortuaria che gli animi si sono scaldati dove i familiari della ragazza le hanno subito ordinato di rimuovere la foto un'intimazione che è rapidamente sfociata in un litigio con tanto di grida e spintoni sul luogo sono intervenute poi le forze dell'ordine che hanno cercato di riappacificare gli animi Parliamo ora di una maxi operazione di contrasto allo spaccio di cocaina che ha portato la guardia di finanza di Pesaro a 5 arresti di pusher e corrieri che rifornivano le piazze efanesi vediamo il servizio Tre uomini e due donne sono finite in manette fra Fano, Terre Roveresche, Cartoceto e la campana Torre Annunziata in una maxi operazione di contrasto allo spaccio di cocaina denominata White Mule Due persone sono finite in carcere e altre tre agli arresti domiciliari in una operazione di polizia giudiziaria di guardia di finanza e tribunale di Pesaro che ha portato a sette perquisizioni domiciliari e anche al sequestro dei mezzi di trasporto utilizzati dai corrieri in questione un Audi Q5 e una moto Yamaha T-Max 500 Indagini che si scatenarono dallo scorso 5 ottobre quando al casello autostradale di Fano venne effettuato il controllo di una macchina con a bordo due donne di origini campane e tre minori La perquisizione del veicolo effettuata attraverso il fiuto del cane Alex dell'unità cinofila di Pesaro aveva consentito di trovare e sequestrare la bellezza di 550 grammi di cocaina più di mezzo chilo di polvere bianca di cui le donne avevano tentato di disfarsi con un disperato lancio dietro una recinzione Droga che però fu prontamente recuperata e sequestrata assieme alla macchina così come contestualmente si arrivò alla confisca di tre smartphone La prosecuzione delle indagini attraverso l'estrapolazione del contenuto del materiale informatico sequestrato ha consentito di delineare il ruolo di cinque persone in totale dedite allo spazio di stupefacenti sulla piazza di Fano con staffette di pusher fra la città marchigiana e la campagna proprio nella giornata di oggi sono stati formalizzati arresti e misure cautelari E passiamo ora a parlare del protocollo d'intesa firmato oggi da Insight Marche e dal comitato proloco della provincia di Pesaro e Urbino un accordo volto alla promozione di eventi turistici vediamo ora le interviste realizzate da Marco Cadeddu L'importanza di lavorare insieme l'importanza di unire le forze questo ci permette ecco oggi di arrivare a firmare un protocollo d'intesa straordinario perché vede da una parte le proloco che organizzano gli eventi e dall'altra i tour operator specializzati nel settore che promuovono gli eventi che le proloco fanno e questa forza qui ci permette di sempre di più di destagionalizzare i periodi di bassa stagione perché le proloco organizzano eventi durante tutto l'arco dell'anno ci permette alle proloco di essere sempre più professionisti nell'ambito della promozione dell'organizzazione ma soprattutto nell'accoglienza perché vorrei ricordare che l'accoglienza deve essere un punto straordinario possiamo essere bravi a promuovere ma poi se non sappiamo accogliere se non abbiamo i nostri uffici aperti e questo lo possiamo dire a gran voce grazie alle proloco abbiamo sul territorio un'accoglienza straordinaria noi abbiamo pensato di portare avanti questa iniziativa perché comunque riteniamo che la collaborazione tra chi organizza eventi e promuove il territorio e fa l'accoglienza come le proloco e noi che appunto siamo i soggetti che sono deputati alla promocommercializzazione delle marche insomma della provincia di Peserurbino sia il primo strumento per poter migliorare le presenze quindi aumentare soprattutto le presenze del territorio e anche la capacità e la professionalità anche nell'accoglienza diciamo che per fare una battuta al tour operetto rolandese o all'agenzia tedesca poco importa diciamo se c'è Tizio Caio Sempronio che si impegna insomma per promuovere il territorio quello che conta è arrivarci e cercare di far sì che ci sia una qualità dell'accoglienza e che ci sia una capacità anche appunto di promozione di comunicazione per far sì che questi territori siano maggiormente conosciuti noi sappiamo che le marche soffrono sul turismo internazionale in particolare al di là del periodo di pandemia e la crisi internazionale dovuta alla guerra comunque abbiamo sicuramente una percentuale inferiore rispetto alla media italiana noi dobbiamo lavorare su quello cercare di mettere insieme il calendario degli eventi che fanno le proloco la qualità dell'accoglienza che possono avere le strutture recettive e noi naturalmente mettere insieme queste cose cercare di farle conoscere e promuovere meglio in Italia e all'estero promuovere il territorio e far sì che possa crescere perché comunque essendo un territorio con una qualità della vita molto alta è importante che le persone rimangano a vivere qua e possano lavorarci quindi creare anche delle condizioni migliori di occupazione se noi anche da un punto di vista turistico e non gastronomico riusciamo ad unire il nostro territorio non abbiamo paura di nessuno non dobbiamo temere assolutamente nessuno secondo me noi possiamo giocare un ruolo importante su questo però dobbiamo fare in modo che i campanili siano uniti e non siano divisi questa base che parte da Fano e Pesaro che si unisce sale verso Urbino abbiamo veramente un triangolo magico che è imbattibile da tutti i punti di vista e in questi giorni Marche Multiservizi sta effettuando degli interventi migliorativi sui serbatoi per acqua potabile L'Edimar e Monte Badia nel comune di Pesaro gli interventi potrebbero comportare una sospensione dell'erogazione dell'acqua domani mercoledì 6 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13 in via della Capinera via del Pettirosso via delle Rondini via della Lodola via dell'Usignolo via del Cardellino via del Gabbiano via del Canarino via dell'Aerone così come giovedì alla stessa ora in via Santa Colomba via Monte Badia e strada della Torraccia continuano poi gli appuntamenti con la stagione di prosa teatri d'autore domani alle 21.15 al Teatro di Gradara va in scena Liturgia Cyborg uno spettacolo interattivo e sperimentale di musica elettroacustica e poesia diretto e interpretato da Lella De Marchi insieme ad Adele Madau a causa della positività al Covid-19 di un membro fondamentale del cast viene invece rinviato l'atteso spettacolo di Emma Dante Pupo di Zucchero la festa dei morti che era previsto al Teatro della Fortuna di Fano per giovedì 7 di aprile ed ora ci occupiamo di medicina quella della prevenzione delle patologie della colonna vertebrale che è stata approfondita lo scorso weekend in un convegno seguito dalle telecamere di Rossini TV Nello scorso weekend medici e scienziati da tutta Italia si sono riuniti a Pesero in occasione della due giorni di convegno la colonna vertebrale e i fattori di rischio all'hotel Baia Flaminia è andata in scena una occasione di approfondimento per incentivare la prevenzione a scuola e nel mondo del lavoro del mal di schiena una patologia tanto sottovalutata quanto invalidante nonché aumentata dell'11% durante il tempo di pandemia l'appuntamento è stato organizzato dalla fondazione scogliosi Italia Onlus e dall'ordine dei medici chirurghi e dell'odontoiatri della provincia di Pesero Orbino un convegno che ha affrontato tanti argomenti collegati tra loro da comuni fattori di rischio come sedentarietà obesità fumo ansia e stress che sono causa di disfunzioni metaboliche che di alterazioni a carico della colonna vertebrale argomento principe è stato la scogliosi idiopatica dell'adolescenza che colpisce l'80% di tutte le scogliosi e che si manifesta fra i 10 e i 15 anni così come è stata affrontata la tematica delle diagnosi tardive a causa della rinuncia alle pratiche di screening da oltre 20 anni prevenzione è dunque la parola d'ordine per scongiurare processi degenerativi o interventi chirurgici evitabili una tematica di transizione dall'evidenza scientifica all'attuazione pratica sviluppata sul doppio filone dell'educazione sanitaria in ambito sia scolastico che lavorativo tante autorità hanno applaudito il convegno dal sindaco Riccia al rettore dell'università di Urbino Giorgio Calcagnini dalla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni al presidente dei medici Paolo Battistini tantissimi gli interventi medico-scientifici nella due giorni coordinata dal medico chinesiologo Luigi Magarò da Marco Braida Bruno a Pinuccia Caspani passando per Davide Schembri Giovanna Guerra Barbara Ferrioli Alvaro Corigliano Stefano Magarò Barbara Sebastiani Massimiliano Cecchini Marco Nulli e Giovanna Biasi Devo dire che il livello grazie all'impegno del professor Luigi Magarò è stato sicuramente molto alto non tanto per l'aspetto strettamente scientifico medico specifico ma per la interdisciplinarietà che ha consentito di fare un convegno che ha coinvolto molto tanti attori del problema legati alla schiena quindi sia nell'età dello sviluppo quello di cui abbiamo parlato ieri quindi della prevenzione attraverso una diagnosi precoce che è poi il progetto della Fondazione Scogliosi Italia che già il professor Magarò ha perseguito nell'arco di questi anni qui a Pesaro e oggi invece su quelle che sono le conseguenze i fattori di rischio per il mal di schiena nell'adulto parlando anche di casi molto gravi come abbiamo mostrato questa mattina però è molto più più importante la prevenzione da fare sul territorio e nell'ambiente del lavoro che è emersa questa mattina anche con altre patologie come l'osteoporosi le malattie metaboliche e questo sicuramente è un livello importante sicuramente noi avremo la possibilità di far sì che Pesaro in questo senso l'area nord delle Marche possa diventare un laboratorio per questi progetti sia nella scuola che nel mondo del lavoro che possano a quel punto diventare una buona pratica da poter diffondere anche in altre parti d'Italia Su questo campo lavoro dal 1980 e quindi ho voluto a un certo punto viste poi le criticità che venivano sempre più avanti abbiamo lavorato sul mal di schiena sulla scuolosi e purtroppo però manca lo screening il mal di schiena aumenta ho pensato e ho fatto questa proposta di riunire esperti in questo settore per discutere e vedere come poter creare una rete multidisciplinare e affrontare il problema da più parti perché come è venuto fuori in queste giornate un solo esperto mi sembra che si è capito che ha bisogno anche non esclude gli altri anzi è stato chiesto è stata fatta come dicevo prima anche una revisione critica anche da parte del professor Braida anche per quanto riguarda gli interventi quindi abbiamo avuto due giornate per me molto soddisfacenti e utili per il futuro perché questo è quello che dobbiamo fare c'è sul territorio basket pesarese in lutto per la morte di Pero Scansi deceduto ieri all'età di 78 anni in Croazia stroncato da un male incurabile Scansi fu indimenticato pivot e coach della Victoria Libertas giocando nella Max Mobili nella stagione 1972-73 e soprattutto allenando la Scavolini dal 1981 al 1984 quella quale perse una finale a scudetto contro la Billy Milano ma fu protagonista dell'indimenticabile vittoria della Coppa delle Coppe nel 1983 a Palma di Mallorca nella finale contro Villa Urbane il primo trofeo nella storia della VL che oggi ha espresso un cordoglio per la grave perdita ed è partita la prima stagione del campionato italiano di velocità Moto3 sul circuito di Misano è andato in scena il primo atto per il neonato Team MR Racing vediamo come è andato il weekend di gare per i giovani piloti Morri e di Vittori weekend in crescita dal punto di vista dei risultati per il Team MR Racing nel primo appuntamento del campionato italiano velocità tenutosi a Misano questo fine settimana sabato pomeriggio a pochi minuti dalla partenza in gara 1 il cielo di Misano ha creato qualche scompiglio facendo scendere una copiosa pioggia sul circuito e costringendo i meccanici ad un rapidissimo cambio gomme la precipitazione però è durata poco e mano a mano che passavano i giri l'asfalto si è asciugato mettendo in crisi le gomme rain e i piloti che di conseguenza sentivano la moto poco stabile Matteo Morri partito dall'undicesima casella in griglia dopo una buona partenza ha tenuto un ritmo buono fino a quando le gomme glielo hanno permesso riuscendo comunque a non perdere posizioni e a tagliare il traguardo all'undicesimo posto la sfortuna ha colpito invece l'altro pilota del team MR Racing Gian Paolo Di Vittori che pur partendo dalla diciottesima posizione in griglia in poche curve era già un dicesimo proprio dietro al suo compagno di squadra ma un guasto tecnico l'ha fermato al primo giro domenica in gara 2 si è vista un'ottima cavalcata di Morri che con numerosi sorpassi è riuscito a lottare per tutta la gara con il gruppetto di testa ma una sbadata all'ultimo giro lo ha fatto chiudere al sesto posto Di Vittori è andato invece più in difficoltà chiudendo la quattordicesima posizione il team MR al suo esordio in questa categoria torna a casa comunque soddisfatto consapevole di aver gettato delle buone basi per il futuro del campionato il prossimo appuntamento sarà il 7 dell'8 maggio al circuito di Vallelunga Roma sabato in gara 1 abbiamo fatto fatica sono partito bene però mano a mano che la gara avanzava ho fatto fatica perché la pista era asciutta e avevo le gomme rain si sono usurate troppo e mi si muoveva troppo e ho mantenuto la posizione di partenza e invece in gara 2 sono andato ho fatto una bella partenza e gara 2 asciutta ho fatto una bella partenza e abbiamo fatto ho lottato per il podio però alla fine mi è scivolato dietro alla curva 2 all'ultimo giro e quindi sono arrivato sesto siamo contenti e fiduciosi per la prossima ieri ci siamo divertiti abbiamo avuto purtroppo un problema tecnico partiamo dalla diciottesima casella e abbiamo avuto un problema tecnico al primo giro e ora si siamo ripartiti di nuovo per la seconda gara e nonostante la poca confidenza con la moto siamo arrivati a fine gara un po' stanchi però siamo consapevoli del fatto che c'è tanto da lavorare e che c'è tanto potenziale ringrazio tutti i tecnici tutta la squadra e le persone che hanno creduto in me ci vediamo a Valle Lumi e con le notizie di sport si conclude qui il nostro Tg prima di salutarvi però vi ricordo gli appuntamenti in programma per questa sera stasera infatti andrà in onda alle ore 21.20 il documentario alla scoperta di Villa Severi lo speciale televisivo realizzato da Rossini TV e poi domani mattina come sempre la rassegna stampa Buongiorno Rossini tutte le mattine dal lunedì al sabato in diretta alle ore 7.20 con replica poi alle ore 8.20 e 12.30 e poi nel pomeriggio alle ore 14 e alle ore 18 e con questo era veramente tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale di Rossini TV